Conoscere un problema consente al diretto interessato di affrontarlo meglio e a quanti lo vivono dall'esterno di comprendere come essere d'aiuto e dare una mano. È l'approccio che ha ispirato anche la giornata mondiale di sensibilizzazione sulle malattie rare. Tra le molteplici iniziative l'incontro tenutosi a Venafro nel pomeriggio di ieri presso il centro sociale Donno Rione gli ospiti intervenuti hanno offerto alla platea tra cui docenti ed alunni dell'istituto comprensivo Leopoldo Pilla spunti di informazione e riflessione su aspetti scientifici delle diverse patologie svariando poi sulla questione complessiva relativa al diritto alla salute. A conclusione la proiezione di un video legato al tema del convegno. Ispiratrice ed organizzatrice in sinergia con l'istituto Pilla la signora Palmina Giannini da anni impegnata sul fronte della sensibilizzazione e della lotta alle malattie rare. Che cos'è questa giornata? Fa ricordare alla gente che si soffre, si soffre per patologie difficili ricordare che la sofferenza fa male e noi dobbiamo favorire la ricerca affinché queste motivazioni siano non solo soltanto delle persone malate ma di tutta la cittadinanza perché sono malattie non rare, sono malattie difficili che sconvolgano la vita. L'iniziativa ha visto il contributo della fondazione Neuromed dalla genetista Alba Di Pardo il punto su due percorsi che in tema di malattie rare camminano paralleli, quello della sensibilizzazione e naturalmente quello della ricerca. Siamo ancora all'inizio ma effettivamente devo riconoscere che la gente e i cittadini in generale anche i bambini stanno rispondendo bene. Anche le scuole oggi per esempio abbiamo assistito a rappresentazioni teatrali dei bambini, preparazione di poesie, anche le scuole stanno cercando di sensibilizzare gli alunni a questo problema sociale. Bene, noi in istituto, il Neuromed, continuiamo a lavorare per le malattie rare e siamo in linea con tutti gli sforzi che si stanno facendo in giro per il mondo. In particolare nel nostro caso stiamo lavorando per le malattie rare che colpiscono il sistema nervoso centrale e stiamo avendo grossi risultati. con questo non voglio dire che riusciamo a curare queste patologie ma sicuramente prepariamo il terreno per buone speranze nel futuro prossimo.